Ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di un profumo che secondo me è un profumo molto originale e quindi ce ne sono pochi in giro di questo profumo, ha una fragranza molto particolare. Il profumo di cui parlerò è questo, Perserve. È un profumo stupendo secondo me, tra le altre cose è anche molto bella il packaging di questa bottiglietta. Allora vi elencherò subito quale sono le note orfattive? Perserve di Avone è una fragranza del gruppo orientale da donna, è stato lanciato sul mercato nel 2000. Il naso di questa fragranza è Christopher Schildrek, le note di testa sono pepe bianco, fresia gialla, le note di cuore sono garofalo, brugna di damasco, pera, yanglang, le note di base sono sandalo, muschio, orchidea, vaniglia eccetera. Allora secondo me se questo profumo fosse commercializzato da un marchio più di nicchia potrebbe essere venduto tranquillamente a un prezzo elevato perché secondo me ne vale veramente la pena approfittare del fatto che a venderlo eppure essendo avendo dei prodotti di ottima qualità Avone è un'azienda molto attenta proprio alle esigenze delle famiglie quindi mantenendo un costo abbordabile. Io quindi vi consiglio di provarlo perché come ripeto un profumo originale del suo genere. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo presto per un altro video. Ciao a tutti!